L'Hockey Forte Romalmi perde 5-1 sulla pista della capolista Trissino del coach Alessandro Bertolucci. Primo tempo 1-1 con addirittura i rosso-blu di Alberto Orlandi che erano passati in vantaggio con Cagias al 3-56. Poi il pareggio di Malagoli che fissava il parziale pareggio al termine dei primi 25 minuti di gioco. Nella seconda parte della contesa però entrava con la maggior determinazione la formazione di casa che andava nuovamente in gol con Malagoli all'1-04 e poi al 4-53 autore quindi di una tripletta. Poi ci pensava Gavioli ex CGC a portare ancora in gol i suoi e a chiudere definitivamente la contesa è Garzia al 18-44 per una sconfitta sicuramente pesante per la squadra Forte Marmina che vede adesso distanziarsi in classifica con il Trissino che mantiene la leadership con 24 punti seguito dal Follonica 20, Lodi e Bassano 16. Lodi che sarà il prossimo avversario proprio dei rosso-blu mercoledì prossimo quindi uno scivolone che deve far riflettere la squadra versiliese quindi non è riuscita a tentare il colpaccio e guadagnare qualche posizione in una classifica che adesso la vede come detto lontana dalla vetta.